qui siamo in definitiva nella falegnameria Salonia ma perché Exemineo? perché era sua socia quindi lui ha sposato la figlia di un falegname e il mio bisnonno si aspetta scusa quindi da quattro generazioni siamo a falegname sto trovando tanti giovani che contrariamente a quello che è successo gli anni scorsi seguono le orme del padre anche perché con i tempi che corrono ma sarà un bene perché penso che tuo papà gli avrai suggerito qualche nuova macchina qualcosa nel 1990 abbiamo cambiato tutte le preghi tuo figlio ha ammesso che lo voglia fare comprerà un capannone è già predestinato il capannone solamente chi ha il comune manda e fa perché la rivoluzione industriale secondo me si continua così il papà fa con l'asciuno il figlio con la macchina il nipote con un mezzo capannone e il pro nipote con il capannone e così poi si industrializzano dovrebbe essere così però qua al sud non ci danno gli incendivi che hanno niente ma a volte basterebbe cercarli non lo so avere i santi in paradiso è il mio solito disposto il revertirbato il fatto di un' Engineers